ma adesso con i mobili andrei a fare anche il montatore di mobili sinceramente è interessante ci sono varie tipologie di armadi di mobili che trovo interessante nonostante solo una settimana che sono qua però è bello come lavoro sono nato in svizzera interna ho fatto l'elementare svizzera interna poi mi sono trasferito in ticino ho fatto l'apprendistato di meccanico di precisione e poi per bene o male ho sempre lavorato nel ramo la precicast alla ri ri alla rex ultimo mio datore di lavoro per otto anni ho lavorato la rex adesso mi trovo qua sono arrivato programma occupazionale tramite la disoccupazione cioè a gennaio praticamente sono rimasto senza lavoro e il collocatore mi ha mandato qua sono una settimana esatta che sono qua l'ambiente è bello sono molto flessibile volonteroso mi ha dato a fare qualsiasi cosa comunque presumo appunto che potrei fare anche il montatore di mobili per una vita di traslochi se non dovessi trovare come meccanico si fa fatica a trovare lavoro e per fortuna comunque ci sono questi programmi che ti danno la possibilità di riprendere il ritmo lavorativo che si alza regolarmente al mattino si fanno le otto ore di lavoro e alla sera si stacca come se fosse un normale posto di lavoro a montare i mobili si arriva a casa stanchi secondo me arrivare a casa stanchi vuol dire che ti sei impegnato ti sei guadagnato la giornata come devo dire guadagnarsi è diverso che stare a casa in disoccupazione prendersi soldi senza fare niente almeno questo è il mio per principio io la penso così grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti